Vuoi avere un'auto sempre nuova ogni tre anni? Vuoi pagarla solo la metà? Progetto Valore Volkswagen, la formula di finanziamento flessibile e personalizzabile. Scegli il modello e l'allestimento che preferisci. Decidi la durata del finanziamento e l'anticipo che desideri, anche piccolissimo. Seleziona il chilometraggio in base al reale utilizzo del veicolo e ottieni la tua rata mensile personalizzata che offre in omaggio l'estensione di garanzia Extra Time per viaggiare ancora più tranquillo. Se desideri ancora più servizi, aggiungi la manutenzione ordinaria o anche una copertura assicurativa. Al termine della scadenza programmata hai tre possibilità. Puoi tenere la tua Volkswagen pagandone il valore futuro garantito, restituirla alla tua concessionaria oppure sostituire l'auto scegliendo una nuova Volkswagen continuando a beneficiare di tutti i vantaggi di progetto Valore Volkswagen.